Anche il dibattito sul costo del lavoro, come se abbassare di 4-5 punti il Q10, il Q1 fiscale, ci desse competitività, francamente la trovo un'idea vecchia. Abbassiamola anche di 40 punti, siamo ancora distanti a Neluce non dalla Cina ma dalla Romania. Forse è altro, ad esempio io sono convinto che se noi volessimo fare una politica seria dovremmo rafforzare molto di più il capitale umano delle nostre imprese. Io ci ho provato nel decreto Salve Italia a mettere una norma che cambiava quella norma sul DRAP che invece diceva se assumi uno che ha il dottorato di ricerca in Science and Engineering lo deduci al 200% per 5 anni, perché se a me questo fa competitività per le nostre imprese è anche un messaggio ai giovani che dice forse è meglio che studiate e studiate certe facoltà. Grazie a tutti.